buongiorno allora intanto colgo l'occasione per ringraziare gli amici del juventus club parma è stata una serata bellissima molto molto intensa tanta gente simpatica massimo bonini avrete state ancora seguendo l'intervista che ho realizzato ieri proprio ringraziarli proprio anche per questa targa che mi è stata data spero che si lega insomma con stima e amicizia eccolo qua nei miei confronti ringrazio ancora tantissimo marco e tutti gli altri componenti del club di parma tra l'altro intitolato già luigi buffa bonini per me è stata una bellissima sorpresa non l'avevo mai conosciuto lo conoscevo ovviamente di fama l'avevo visto giocare da ragazzo è stata una bellissima sorpresa per la cordialità la spontaneità lui di san marino non è italiano per la legge italiana ma è romagnolo quindi ha la parlata e ha come dire la 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 verve tipica del romagnolo la quel senso di amicizia quasi che trasmette subito no questa gente veramente veramente particolare e l'umiltà la grande umiltà di colui che comunque è stato sul tetto del mondo che ha vinto una coppa intercontinentale ha vinto gli scudetti ha segnato sei gol tra l'altro nel nella fase prevenzione ci teneva a dire che erano stati fatti vedere tre o quattro gol ma non quello che lui ricorda con maggior affetto che fu un gol all'inter quindi tanto per farvi capire che la rivalità insomma c'è sempre stata e sempre ci sarà con la squadra nera azzurra poi è bello parlare con questi ex calciatori a prescindere ovviamente che dalla squadra in cui l'ho giocato perché perché ti fanno cogliere tante cose no del calcio tanti aspetti che loro hanno vissuto da dentro o ti sono 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 pieni di aneddoti no io mi ricordo non so se qualcuno di voi si ricorda in quella finale di tokyo il gol di laudrup pazzesco dopo uno scambio con platini ma io mi ricordo benissimo ero stato su tutta la notte a guardare la partita causa fuso orario nell'occasione del gol laudrup subisce un fallo da rigore se cade gli danno rigore lui si punta la mano sul ginocchio e resta in piedi al momento ha detto ma perché resta in piedi poi tira e fa gol lo stesso no e io glielo glielo ho fatto presente anche quella di quell'azione a boni dietro guarda in quel momento tutti ci siamo chiesti perché non fosse caduto quando ha segnato nell'anno abbracciare insomma gli avevo chiesto se guarda che cioè dovevi cadere se se non facevi gol ti ammazzavamo cioè ovviamente buonariamente parlando no perché poteva essere un calcio di rigore e sono aneddoti belli raccontati poi con con questa spontaneità con questa tranquillità con questa con questa umiltà perché poi chi ha vinto è bello che rimanga che rimanga umile no perché uno perché dovrebbe gasarsi per tutto quello che ha vinto no si rende conto adesso di essere stato sul tetto del mondo volini e perché perché ha detto anche ieri perché quando sei alla juve appena vinci qualche cosa devi già pensare a vincere o a centrare l'obiettivo successivo questo vuol dire giocare nella juventus vuol dire giocare nel milan vuol dire giocare nell'inter sul milan per esempio se vi capita di guardare io lo sto guardando quella intervista che ambrosini ha realizzato con nesta maldini in zaghi pirlo gattuso stavamo bene insieme è bellissima su da zona faccio faccio pubblicità e anche lì salta fuori questo spirito della grande squadra è così è giusto che sia così i successi magari te li godi te li godi dopo chiusa la parentesi relativa a ieri grazie ancora mi soffermerei un po sull'intervista a rabbiò rabbiò ha detto delle parole molto interessanti oltre al fatto di credere allo scudetto oltre al fatto di di dire che all'inizio la juve ha stentato perché c'era una serie di infortuni adesso lui è convinto che questa squadra possa puntare puntare molto in alto è chiaro che la situazione è francamente difficile posso capire che il passaggio che forse ha molta gente piaciuto di meno è quando dice allegre un grande allenatore posso capirlo perché a tanta gente alle che non piace è un grande allenatore con lui sono migliorato tecnicamente ed è uno che i giovani li martella proprio per farli migliorare tecnicamente è la solita diatriba il solito discorso che si fa su di lui non è probabilmente un grande tattico o comunque non fa giocare bene le squadre comunque non ci si diverte a parte che contro la lazio la juve ha giocato bene no perché la cosa che mi ha fatto un po ridere devo dire è stato sentire dei commenti o leggere dei commenti e dire adesso gli allegriani non saranno contenti perché la juve ha giocato bene con la lazio che è una roba di una stortura mentale pazzesca no se ci pensate ma cosa vuol dire a parte che è un autogol clamoroso cioè ha giocato bene e in panchina chi c'è quindi vuol dire che allegri sta a far giocare bene le squadre no cioè non lo so quando è oppure no allora dobbiamo leggerla come un amutinamento della squadra adesso ti facciamo vedere noi che sappiamo giocare bene ma veramente cioè qua mi sembrano delle storture vabbè comunque lasciamo cadere il discorso emerge questa questa visione dell'allenatore ripeto che è più curatore di particolari tecnici che magari curatore di particolari tattici ma questo ce lo siamo sempre detto ce lo siamo sempre detto e diciamo che la parte più interessante è quella a cui ovviamente non ha risposto ma ve lo aspettavo ed è relativa all'eventuale prolungamento del contratto che è in scadenza giugno 2023 vedremo ecco quel vedremo lì dopo aver ammesso di essere stato molto vicino alla premier league ea molto vicino alle united su quel vedremo c'è tutto un mondo su cui argomentare perché perché la juve ci sta pensando a rinnovarvi il contratto sicuramente ci sta pensando il problema è la richiesta del manager procuratore della mamma che va a sfiorare 10 milioni netti e che onestamente mi sembra un tantino alta se devo esprimere la mia la mia opinione stiamo parlando sicuramente di un giocatore che finalmente e fatemi usare questo avverbio fa vedere di sapere abbinare alla potenza fisica e quella da sempre avuta e alla tecnica la costanza di rendimento perché questo era il suo problema vuole giocata all'interno della partita poi spariva partite in cui non lo vedevi in campo partite in cui ti accorgevi chi era in campo adesso sta giocando con continuità è aumentato anche lui ha aggiunto qualche anno alla sua età come fanno tutti al mondo probabilmente è riuscito a alimare certi aspetti del suo carattere non dimenticatevi che due o tre volte il parisienzo e me nei tempi l'aveva messo fuori rosa per problemi sia legati ai rapporti col procuratore sia legati al suo comportamento quindi stiamo parlando di un carattere un tantino forse esuberante che adesso ha alimato determinati particolari che adesso fa il professionista serio 10 milioni sono tanti vi lascio con questo interrogativo sì secondo me sì in questo momento sono tanti considerando anche la situazione economica della juventus ne prende 7 secondo me si racchiude intorno agli otto e mezzo nove perché poi a volte è il discorso psicologico per esempio quando una cosa costa 99 euro anziché 100 fa più effetto no diciamo adesso risparmiando perché le tre cifre tt in generano psicologicamente l'idea che stai spendendo tantissimo alla fine risparmi un euro ma 99 fanno più effetto 10 milioni in questo momento per abbio mi farebbero un certo effetto otto e mezzo nove già meno si rientra no in in quella dimensione per la quale giustamente gli riconosci che sta facendo una buonissima annata ma non vai a dargli lo stipendio che daresti a un fuori classe è un ottimo giocatore non è un fuori classe poi parleremo anche di vicar e vedete che sta saltando fuori qualcosa ve l'avevo accennato anche l'altro giorno magari ne parliamo questa sera in sede di ulteriore video e naturalmente vi do appuntamento anche sul numero 10 l'applicazione e ovviamente il solito appello se volete iscrivetevi al canale noi siamo qua ciao